Guido Lorenzon, il test trevigiano nella strage in Piazza Fontana, è stato ospite giovedì 11 dicembre all'Auditorium Celestino Piva di Valdobiagene in occasione del 45esimo anniversario della strage. La serata è stata organizzata dal Circolo Letterario in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Molta l'affluenza della gente e anche delle autorità per ascoltare la sua storia di testimone. Guido Lorenzon è il test volontario che indirizzò le indagini per la strage del 69 sulla pista nera di Freda e Ventura. La serata è stata guidata da Adriana Rasera, organizzatrice dell'incontro culturale e direttore di Eden TV, che ha intervistato l'ospite autore di Piazza Fontana, la pista di Treviso. Sì, è stato proprio quello che ho visto in Piazza Milano quella mattina che mi ha convinto che effettivamente se avessi fatto quello che era il mio dovere non ero solo. Quella piazza mi ha fatto capire che c'era senso civico e che c'era il dovere da parte mia di segnalare, di comunicare le cose che involontariamente o volontariamente, non importa, io avevo raccolto. Io avevo frequentato in quegli anni Giovanni Ventura e non per questi motivi, ma perché si parlava dei libri, mi aiutava procurandomi dei libri per la tesi di laurea e mi parlava anche di queste cose, erano piccoli segmenti di conversazione che messi tutti insieme davano un filo conduttore e potevano dare una spiegazione a quello che era successo. Non volevo ammettere che quello che sapevo potesse spiegare la strage. Quando hai capito di essere nel Tritacarne? È abbastanza presto, diciamo subito. Io stavo dicendo delle cose che tutta Italia conosceva in maniera inversa. In pratica io avevo delle notizie, delle informazioni secondo le quali la strage era attribuibile, era una pista nera. Si parlava invece nei telegiornali e nei giornali di una pista rossa, di una pista anarchica, il responsabile c'era già. E io immaginavo di conoscere chi invece potesse essere persona che sapeva molto di più di quanto non avesse detto, di quanto non avesse detto a me. Quindi ero persona in contraddizione con il ciclo dell'informazione.